Domenica rovente ad Andrea, nonostante le temperature più basse e il cielo parzialmente coperto, nella tarda mattinata di ieri, infatti, 2 settembre, si è sviluppato un incendio incontrato a Mastro Ottaviano nei pressi del Santuario della Madonna dei Miracoli. Le fiamme hanno interessato un terreno di circa un ettaro e mezzo, colpendo in particolare un'area incolta piena di rifiuti abbandonati e una piccola estensione di oliveto. Intervenuta prontamente alla polizia locale di Andrea che ha provveduto ad allertare i volontari delle guardie federiciane, i quali giunti sul posto hanno provveduto ad estirpare l'incendio con l'utilizzo del soffiatore e del modulo antincendio AIB. L'intervento, cominciato intorno alle 13, si è concluso dopo circa mezz'ora. Da una prima ricostruzione in relazione anche alla segnalazione delle guardie federiciane, pare che l'incendio sia stato favorito dalla vegetazione secca e dalla presenza dei rifiuti abbandonati in maniera irresponsabile nell'area. Una problematica che sottolinea ancora una volta la necessità di ridurre il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti nelle campagne. Nonostante i numerosi interventi recenti per contrastare questa criticità, la strada da percorrere per una corretta educazione civile è ancora lunga.